ciao a tutti oggi prepareremo la torta grisby il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono uova zucchero semolato burro farina cacao amaro un pizzico di cannella e vanillina diamo il via alla ricetta andiamo a inserire nel boccale le uova e lo zucchero e azioni a 1000 bimbi per due minuti a velocità 4 adesso aggiungere il burro e ad amalgamare per due minuti a velocità 4 nel frattempo prendiamo uno stampo e lo ungiamo con lo staccante per teglie accendiamo il forno a 250 gradi statico adesso versiamo la vanillina la cannella il cacao la farina chiudiamo il coperchio senza il misurino e azioneremo il bimbi per un minuto a velocità 7 8 spadolando la cannella e adesso andiamo a trasferire il nostro impasto nella tortiera dopo aver trasferito l'impasto nel nostro stampo di silicone andiamo a infornare a forno statico a 250 gradi per 14 minuti circa la nostra torta è cotta lasciamola raffreddare prima di uscirla dallo stampo la nostra torta grisby è pronta torta grisby grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti